Siamo a Pesaro, al centro La Fenice. Qui con noi c'è la dottoressa Milena Renzoni, psicoterapeuta familiare e relatrice del convegno La Tavolozza dell'Essere. Il suo intervento verterà sull'esplorazione del sé, visto da un'altra prospettiva. Qual è? Allora, io parlerò di una prospettiva più familiare perché appunto la terapia familiare guarda non solo il singolo individuo ma l'intero nucleo dove vive, l'ambiente di vita, le reti sociali che ha, quindi le relazioni, le relazioni affettive sono molto importanti. Quindi tratterò appunto nella mattinata di una tecnica terapeutica che è il genogramma. Il genogramma fotografico consiste appunto di una narrazione della propria storia familiare che attraversa le generazioni passate ed è comunque un disegno grafico dove la persona esprime con dei simboli condivisi tutte le cose, le vicissitudini che gli sono capitate nella vita, quindi eventi critici, lutti, aborti o magari morti improvvise, matrimoni, legami, separazioni, tante cose insomma che emergeranno. Questa tecnica serve anche per esprimere le emozioni che emergono e quindi appunto fa riflettere e rielaborare la propria storia familiare. E ci sarà poi nel pomeriggio anche un laboratorio? Sì esattamente, ci saranno più laboratori in quanto siamo cinque professioniste con ognuno al suo laboratorio. Il mio consisterà appunto nel mettere in pratica, sperimentare il genogramma e poi comunque essendo psicologa creerò un gruppo con uno spazio di ascolto dell'altro dove ognuno avrà modo di parlare del proprio passato però comunque sapendo anche ascoltare le storie degli altri. Grazie per il suo intervento. Di niente, grazie a voi. Grazie a voi.